e bene ragazzi oggi siamo in compagnia di jack sempre allora ragazzi oggi se avete visto nel video andiamo in creativa perché ci sono che giochiamo ragazzi giochiamo mamma mia una cosa che non ce ne siamo accorti ma a vero a maria a ciosatella mi è spuntato proprio davanti ci ragazzi noi nel video precedente vi abbiamo fatto vedere questo qua questo castello per signori c'è un'altra isola va bene però fai vedere una cosa strana a parte il portale del land che io e jack abbiamo fatto lascio un creeper la vediamo anche nel portale buongiorno signor creeper buongiorno come stai e mi dispiace me la devo uccidere con due tre colpi più altra esperienza voi ragazzi no quando vi abbiamo fatto vedere nel video non l'abbiamo fatta noi non l'abbiamo fatta noi però guardate c'è una croce simbolo di erobrine simbolo di erobrine non l'abbiamo fatta noi non l'abbiamo fatta noi se non è il video precedente ve l'avevamo detto ma non ce ne siamo proprio accorti di fare questa cosa l'avevamo già detto io non mantengo segreti a parte qualche segreto non li mantengo guardate guardate ragazzi la croce la croce guardate la croce c'è da qua da quassù è impossibile è in un'isola va bene raga e noi vogliamo farmi vedere questo questa cosa io andrei nel portale nel land io che vai tre due uno ora non c'è il dragon no giusto ragazzi perché l'abbiamo sconfitto non male cadevo fuori dal mondo se no se no non morire buongiorno signor enderman buongiorno buongiorno salve 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 no ok dai vai vai sopra vai sopra vai sopra allora ragazzi noi volevamo farvi vedere questa cosa però cioè a noi c'è questa cosa che io a me non mi è mai successo a parte una volta però c'è la tua esperienza come hai fatto a non prendere ah no ma che esperienza che cosa è questo no la sentenza se ne vai te ne vai ah ok allora no ecco ria no che sei tu ah ah come sei va bene ragazzi noi vi volevamo far vedere questo però un video di tre minuti non si può vedere no giochiamo a clash giochiamo a clash va bene dai giochiamo a clash oh albazio sland anzi no apriamoci il ballone d'oro dai ok apriamoci clash e vendiamoci questo bel ballone d'oro allora oh my gosh ragazzi a noi il video di prima per me è stato il mio video migliore comunque apriamoci avrò io e questo bel ballone d'oro maggio 3 skip 3 skip 3 skip 30 di oro una scera ci sai perché c'è la gambo? un pochino non fa niente e due è un bombarolo buonissimo poi c'è l'offerta speciale oh io questo non ho mangiato un skip vai allora iniziamo a sblocco e poi vediamo qui allora qui dono un disco i vetrini va bene doniamo 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 e apri il ballone d'oro ok apri tu apri tu apri tu apri 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 facciamo la battaglia prima apri via ragazzi vediamo 4 skip 4 skip attenzione se si resta 3 un goblin 1 la valchiria è sbloccata benissimo se ci vuoi piccata nooo se ci vuoi picare la leggendaria ma no no ma è mo leggendaria è una area 2 e ah è una area 2 sai la prendo la valchiria la valchiria ti dico di non usarla ma che mazzo hai vediamo no perché hai meglio il bombarolo cos'è almeno arrivo piano 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 aspetta aspetta questo qua mi piace no ma devi fare questa cosa nooo è troppo forte davvero è benissimo questo mazzo ne ho vinte tutto vedete puoi fare puoi fare questo con questo con il principe e con il pecca io l'ho fatto fortissimo davvero con il cavalliero o con il moschitero come vuoi tu va bene un cavalliero o un cavalliero ragazzi e facciamo un battaglio 2 vs 2 2 vs 2 per provare un nuovo mazzo dai ok va bene io taglio ah no non c'è bisogno più di tagliare campati però attenzione ragazzi allora buttiamo sfera in fuoco da qui per ricominciare no no per me fai caricare tutto il residuo perchè sennò le sei ributtata vai adesso la fireball fireball sul lato destro uuuu bitch aia aia ma il mio compagno non mette molto ora sta mettendo tanto dai metti ok attenzione 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 mi rivecca a livello 6 che la capa l'ha messo fortissimo davvero per cosa io c'è il principio a livello 7 lavò il tiro a livello 5 ma tu lo sai perchè perchè non te lo potessi il nuovo aggiornamento il nuovo aggiornamento fa salire le cazze però sono sempre di quella cosa aia ci fanno una torre aia ragazzi aia ragazzi ci hanno fatto la torre ottimo benissimo benissimo io butto il domatore ah no meglio fireball meglio fireball fireball non buona non buona le frecce no 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 ragazzi 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 piano 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 facciamo piano piano non c'è bisogno che abbiamo perso attacca dall'altro lato no attacca dall'altro lato però non c'ho il doppio di sir aia ne sempre mi serve oh adesso ho fatto un attaccoมา contattissima io ho messo l'orda di sghieri ma tanto che attenzione dai guarda di goblin dai 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 pensa qua penso io ci penso io ci penso io amico ci penso io attacca amico attacca vai vai con le frecce vado con le frecce e li distruggiamo l'altra cosa ragazzi dai quanta cavolo tolgo con le frecce a togliere l'odore no Y懂 moschettiere 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 di moschettiere due moschettiere no 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 soul fireball fireball Tavola via no tiden e dai una d'ora ma l'abbiamo porce da ce la siamo portata a casa attenzione no no dobbiamo dobbiamo difendere amico difende che cavolo difendi dai 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 no dai no allora io butto tutto per cercare di difendere no aiuto no 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 8 di HP 8 di HP bella partita benissimo vabbè comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto in ogni caso noi ci fermiamo così spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanella e le notifiche per ricevere i prossimi video e da chiamarsene notte 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 e da jack out ciao ragazzi